È il coronamento di un percorso iniziato tanti anni fa su iniziativa della geometra Caterina Ferrari di Geocam e il nostro dipartimento con la loro coordinatrice professoressa Cristiana Fioravanti ha raccolto questo invito, questa sfida che è proseguita poi sotto il coordinamento del professor Veronesi quindi io non ho fatto altro che ereditare e proseguire grazie al sostegno della direttrice professoressa Forlati questo percorso è iniziato appunto tanti anni fa e niente sarebbe stato possibile senza il sostegno della fondazione Cariparo che finanzia tutte le nostre attività e che ha reso possibile anche la trasferta delle nostre studentesse a Milano ma il merito principale va anzitutto a loro, quindi alle nostre studentesse, ai nostri studenti formatori e in vista del prossimo anno accademico probabilmente potremo annunciare una novità cioè l'istituzionalizzazione della CIM che assumerà una nuova veste nel nostro percorso di studi Sono Nadia Bala e sono una studentessa dell'Università degli Studi di Ferrara e studio giurisprudenza qui a Rovigo e siamo qui oggi perché abbiamo avuto una grandissima opportunità quella di fare un corso di mediazione e alla conclusione di questo corso siamo state a Milano alla competizione italiana di mediazione è stata una bellissima esperienza che ha permesso a me e alle mie colleghe di metterci in gioco non solo come studentesse ma anche come professionista del futuro e innanzitutto è stata una gioia assoluta arrivare prima noi a questa competizione ci siamo veramente messe in gioco dal punto di vista tecnico perché abbiamo avuto la fortuna di essere preparate da ottimi docenti e abbiamo avuto l'opportunità come dicevo di conoscere altri studenti e altre realtà e quindi che dire siamo molto orgogliosi di questo successo portato non solo all'Università di Ferrara ma soprattutto alla sede di Rovigo grazie a tutti